Nicola Pascale, CEO di azienda napoletana Mobilità. Quando si parla di mobilità, insomma, il discorso della sostenibilità è un discorso molto articolato e complesso. Assolutamente sì, molto articolato e complesso, che tocca varie categorie, può essere declinato in diversi modi. Come veniva precedentemente detto, c'è un tema di sostenibilità economica, che è un tema assolutamente centrale per le aziende che svolgono il trasporto pubblico locale. Basti pensare che da un recente studio pubblicato da Plimsoll su mille delle principali aziende europee che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, circa il 30% sono in condizioni di disequilibrio economico-finanziario. Quindi c'è un tema di equilibrio economico-finanziario prima di tutto e di sostenibilità economica-finanziaria. C'è un tema di sostenibilità ambientale, sul quale si sta muovendo tutto il comparto, devo dire, con determinazione, utilizzando le risorse rinvenienti dal piano nazionale di presa e resilienza. E si sta muovendo su che cosa? Prima di tutto sulla migrazione della flotta verso l'elettrico. Devo dire scelta che io anche trovo condivisibile, però forse declinarla più nel senso di una neutralità tecnologica da certi punti di vista forse sarebbe stato preferibile. Oltre a questo, l'altro grande filone sul quale si sta muovendo, sempre nell'ambito del piano nazionale, è la questione della digitalizzazione. Prima venivamo detto da Simone una cosa che io condivido pienamente. Cioè noi inseguiamo la tecnologia, ad oggi la tecnologia ci consente di fare talmente tante di quelle cose, sia nella produzione dei servizi che nella interlocuzione con i nostri utenti, ci consente di fare talmente tante di quelle cose che siamo noi aziende che non riusciamo a stargli dietro, non riusciamo a svilupparle, non riusciamo a tradurle in servizi concreti per i cittadini. E questo pone, secondo me, quello che è uno dei temi più importanti e il motivo per il quale poi mi fa particolarmente piacere questo tavolo. Noi abbiamo bisogno di contaminazioni culturali, contaminazioni culturali dal punto di vista tecnologico e qua mi sembra che ci siano tutti i soggetti che possano appunto contaminare efficacemente, ma anche dal punto di vista culturale, perché la mobilità sostenibile è anche e soprattutto un fatto di carattere culturale. Prima veniva detto da qualcuno sull'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo, il trasporto collettivo è una cosa che è utilizzato da utenti captive, cioè gli utenti che utilizzano il trasporto collettivo sono, almeno in Italia, questo per un fatto culturale probabilmente ereditato dal secondo dopoguerra, sono utenti che non possono permettersi di udare l'automobile. Cioè la tipologia di utenti, noi spostiamo 150 milioni di persone ogni anno, la nostra tipologia di utenti si colloca su una fascia di reddito e culturale medio-bassa. Questo è un tema, è un tema perché se da un lato è chiaro che va garantito a tutti, il trasporto e la mobilità vanno garantiti a tutti, però dall'altro è evidente che noi non riusciamo a catturare utenti che si collocano in altre fasce culturali ed economiche, roba completamente diversa da quella che succede in Inghilterra piuttosto che negli Stati Uniti. Noi per questo abbiamo fatto dei tentativi, che è stato quello di rendere le nostre stazioni, stazioni belle, stazioni più interessanti, con progetti che hanno avuto dei riconoscimenti anche a livello internazionale e che cosa ci hanno dimostrato? Che progettando delle stazioni belle si riesce a raddoppiare il bacino di utenza, cioè anziché avere un bacino di utenza di circa 500 metri, la stazione viene percepita a quasi un chilometro di distanza. Un esperimento che io trovo molto interessante e che tra l'altro metto anche sul tavolo e chiudendo, questo ci dimostra che quello di cui abbiamo bisogno sono le contaminazioni, contaminazioni a tutti i livelli, cioè contaminazioni di carattere tecnologico ma anche di carattere sociologico, oltre che ancora, e chiudo, di carattere economico. Grazie. Grazie tante, veramente, le avrei passato la parola infatti, perché vedevo che era molto interessato e stimolato dalla riflessione. Sicuramente, non mi ricordo chi, ma un inglese disse che il progresso di una nazione non si misura da quanti poveri hanno l'auto ricca, ma da quanti ricchi usano il trasporto pubblico. È un inglese. È bella questa.